militare e sanitaria di aiuto russo all'Italia per il Covid, diciamo la verità, la politica russa dell'Italia è qualcosa che è stata molto più che bipartisan, è qualcosa che addirittura risale ai tempi della guerra fredda, l'Italia ha sempre cercato in qualche modo di sfruttare un'area grigia nella quale le sue mosse non sfidavano gli interessi degli Stati Uniti per crearsi qualche opportunità in più, questa cosa qua ha unito tutto il sistema politico italiano salvo forse credo il partito radicale e pochi altri, è ovvio che poi quando il clima internazionale cambia e le briglie vengono tirate è ovvio che ci stanno degli scossoni, ma guardate che ha avuto difficoltà anche Draghi, Draghi è stato fortemente criticato per il modo in cui si è esposto nelle settimane precedenti all'inizio della guerra, è stato attaccato da Bloomberg, la sua politica è stato oggetto di domande nelle conferenze stampa che si tenevano alla Casa Bianca e a un certo punto è chiaro che i nostri interessi certe volte ci portano a fare delle cose che non sono ben gradite. Lei dice di tutti non è solo dei populisti. La dipendenza dal gas nostra è aumentata sensibilmente dai tempi del governo Letta in avanti, è una cosa che tutti i governi italiani più o meno hanno avuto quella di esporsi nei confronti della Russia e onore del vero anche della Cina. Chiedo scusa, però c'era una differenza di fondo. Prima si sapeva dove l'Italia stava sul piano internazionale. Ma si sa anche adesso. No, momento. Quando sono arrivate al governo delle forze dichiaratamente populiste nel 2018, che hanno in qualche modo espresso anche posizioni molto euroscettiche, molto antinato, è logico che è cambiato. Questo però non si può trascurare, perché altrimenti sembra che sia stato sempre tutto uguale. No, prima c'erano dei punti fermi, alla fine questi punti fermi sono smottati e quindi la preoccupazione verso l'Italia è aumentata e non sappiamo cosa è successo bene ancora. Ma forse è aumentato anche l'interesse russo. Chiedo scusa, però i 13 mesi di governo giallo-verde coincidono con la presidenza di Trump, quando sembrava che gli Stati Uniti addirittura considerassero l'idea di abbandonare l'Alleanza Atlantica. Erano gli anni o il periodo in cui Macron diceva che la Nato è cerebralmente morta. Noi siamo stati molto più atlantisti in questo senso qua. Ma dall'altra parte si parla di una scelta di valori. Io sono realista, secondo me l'Alleanza Atlantica per noi è il punto di riferimento fondamentale come italiani per due ragioni semplicissime. L'Italia sta in mezzo al mare e quindi deve essere alleata delle potenze che controllano il mare. Queste potenze sono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. L'Italia dipende per l'alimentazione del proprio debito pubblico dai mercati finanziari internazionali. E chi è che li controlla? Di nuovo Stati Uniti e Gran Bretagna. Quindi è ovvio che nessuno può mettere in dubbio la parte di appartenenza del nostro Paese. Ciò non toglie che più volte, persino durante la Guerra Fredda, noi abbiamo cercato di sviluppare delle direttore cinta. Mi pare che la differenza di vedute sia sul fatto che è sempre stato, invece c'è stato qualcosa e una fase diversa e di più. Vorrei... è qualcosa di... è così sicuramente di più, ma anche mi pare di interesse, come dire, di penetrazione russa in Italia, che è anche l'altro lato. Non c'è una grande potenza, fa il suo gioco, non c'è dubbio, ci ricordiamo. Come la fanno qua, fanno tutti. Allora, vorrei andare da Domenico Quirico.